Codice rosso, ossia la legge che tutela le vittime di violenza domestica e di genere, è entrata in vigore lo scorso 9 agosto. Un provvedimento che, oltre all'aumento delle pene, prevede l'obbligo per la Polizia Giudiziaria di comunicare al magistrato le notizie di reato di maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori, lesioni aggravate avvenute in famiglia o tra conviventi. E le vittime devono essere sentite dal Pubblico Ministero entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato. Risultato? Boom di segnalazioni. Ben ritrovata all'Avvocato Penalista Paola Pasquinuzzi. Buongiorno. Allora, nuove norme dicevamo, boom di denunce. A Milano arrivano ad esempio, facciamo alcuni numeri, media 40 denunce al giorno, 20 a Roma, 30 a Napoli. Questo cosa significa? Che l'effetto della legge c'è stato anche se magari un effetto non risolutivo in termini di vittime di reato. Questa legge che è entrata in vigore appunto il 9 di agosto ha provocato questo boom di denunce. Viene da chiedersi se questa legge sia risolutiva per il problema della violenza di genere. Qual è il vero punto? Il vero punto è che si sono inasprite le pene, si sono creati nuovi reati. Si cerca di proteggere nel modo più sicuro la vittima, ma a mio parere queste nuove disposizioni non sono sufficienti. Sono indubbiamente un primo passo per la tutela delle vittime vulnerabili, ma non è sufficiente. Non è sufficiente soprattutto perché sono mancati i fondi. In questa legge sono stati stanziati alcuni milioni, ma non per la preparazione della Polizia Giudiziaria né per la preparazione dei pubblici ministeri che devono occuparsi di questa materia. Quindi il grande problema è questo. Oltre poi a quello della tempistica dei tre giorni, di dover sentire la vittima appunto in questi tempi stretti quando ci sono tante denunce. Quindi già si sono viste e sentite e lette critiche da parte degli operatori, Pubblico Ministero, Procuratore Capo di Milano, altri procuratori, che hanno suggerito di dover in qualche modo suddividere queste segnalazioni. Cioè codice rosso che significa, come il triage all'accettazione del pronto soccorso. Perché ci sono vittime che davvero lo sono e necessitano di un intervento immediato, mentre altre possono anche essere posticipate. Però come può essere scaglionato l'esame di queste persone? Forse anche predisponendo all'interno delle procure più grandi un gruppo di pubblici ministeri che sono d'urgenza proprio sul problema delle vittime vulnerabili e dopodiché comunque anche la polizia giudiziaria non deve sottovalutare il problema. Infatti abbiamo visto in questo purtroppo ultimo periodo dopo l'approvazione della legge la morte di quella signora a Milano, la signora Adriana, che è stata accoltellata dal marito nonostante avesse più volte fatto denunce. Si dice ma la signora doveva andare via da casa e non lo ha fatto. Dobbiamo tenere presente che le persone che si rivolgono alla polizia, ai carabinieri, alla procura spesso non sono in condizioni di lucidità mentale per poter prendere delle decisioni e non hanno neppure una casa a disposizione o una struttura dove andare, un luogo, persone con cui parlare, a cui potersi rivolgere e fidare. Perché quando ci sono queste relazioni strette tra coniugi ad esempio o ex coniugi o ex compagni il tempo è stretto, non si può pensare che fra sei mesi collocheremo la donna in una struttura protetta. Questa legge ha forse il difetto di voler inasprire le pene, di stabilire tutta una serie di passaggi che però sono successivi alla commissione del fatto. Purtroppo è questo. Un altro tipo di reato che è stato introdotto dal codice rosso è il cosiddetto revenge porn o porno vendetta oppure vendetta porno, ossia, lo spieghiamo per chi non si avvezza a termini inglesi, la condivisione pubblica di immagini o video intimi tramite internet senza il consenso però dei protagonisti stessi o dell'uomo o della donna. Ovviamente questa norma nasce da fatti di attualità abbastanza recenti, di quella ragazza che si suicidò perché il suo video diventò virale e lo hanno visto mezzi italiani. Ovviamente nella norma si parla senza il consenso della persona perché ci possono anche essere evidenti... Si vuole colpire chi si approfitta di questi video che sono stati magari ripresi in momenti di particolare anche intimità per vendetta i ragazzi che fanno girare il video di una compagna di classe e quindi la ragazza giovane che non ha strumenti per difendersi rispetto a questo fatto così grave che la va a ledere in un aspetto così intimo quello della propria sessualità. E in questa stessa norma, che è un nuovo reato completamente, si parla anche dell'ex coniuge, del coniuge separato che può anche lui mettere... vendicarsi attraverso la diffusione di un video i cui protagonisti sono il marito o la moglie a contenuto intimo e sessuale. C'è però anche l'altro tipo di reato, un tipo di reato che in Italia non si era mai sentito, la deformazione dell'aspetto fisico. Sì, anche questo, reato nuovo, è un reato che è una specificazione diciamo di altri reati che ci sono già con gli aggravanti ma questo si è voluto, il legislatore lo ha voluto proprio per andare a punire quelle condotte, e ce ne sono tante, abbiamo addirittura una... C'era una coppia che con l'acido agiva, no? Esatto, quel caso lì, ma anche abbiamo in Parlamento un onorevole che è stata sfigurata dal proprio ex compagno con l'acido, con una deformazione per sempre del proprio viso. Quindi è proprio il cambiamento del viso attraverso appunto l'uso di benzina, acido, eccetera. Si può dare fuoco alla persona oppure sfigurare la fuoco. Esatto. Esattamente la stessa cosa. C'è anche la possibilità per il violento, o almeno il potenziale violento, di utilizzare il braccialetto elettronico. E' anche questo una via risolutiva oppure comunque presenta delle deficienze anche in questo caso? Allora, secondo me non è risolutivo neppure questo. Primo perché questi braccialetti elettronici non ce n'è una grande disponibilità in Italia. Tante volte a soggetti che poteva essere applicato il braccialetto non li sono potuti concedere gli arresti domiciliari per mancanza del braccialetto stesso. E poi comunque anche qui, questo è legato a un particolare divieto di avvicinamento alla casa coniugale, ad esempio. Se c'è la violazione il giudice può disporre questa ulteriore misura cautelare per impedire al soggetto di avvicinarsi. Quindi, codice rosso in questo momento, boom di nu, ce le segnaliamo e ce le portiamo a casa con una prima vittoria. Ma è solo un passo avanti in attesa appunto magari di migliorie della legge stessa. Sì, la legge deve essere migliorata nel senso che, primo, devono essere stanziati dei fondi anche per la preparazione di coloro che si trovano in contatto con le vittime. Mi riferisco alla polizia giudiziaria, ai pubblici ministeri, insomma ai magistrati che trattano questo tipo di problema. E poi non basta una legge punitiva, diciamo, per evitare il problema. Una preventiva è soprattutto di grande aiuto alle donne, alle vittime, nel sostegno di farle allontanare dalle case, trovare delle strutture, perché ci sono alcune strutture che davano sostegno alle donne, che chiudono perché non ci sono i fondi. Quindi si ritorna sempre lì. La coperta è corta. Se non ci sono i soldi, come ormai purtroppo in tutte, anche negli enti pubblici, non si possono fare determinate attività perché mancano i fondi. E anche qui sono belle queste petizioni di principio, ma tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Grazie alla penalista Paola Pasquinuzzi. Grazie.